questo video nasce da una ispirazione abbastanza estemporanea che a sua volta prende i suoi passi da un fatto che è successo qualche giorno fa se ben ricordi un paio di video fa ho detto di aver preso il covid nello stesso video ho annunciato che il mio medico mi aveva suggerito di prendere la tachipirina tutta quanta la community si è mossa in questo senso cosa che mi ha decisamente commosso da tanti punti di vista in due modi diversi la metà mi ha fatto gli auguri di pronta guarigione cosa della quale li ringrazio dal profondo del cuore perché effettivamente dopo tre giorni sto meglio ho solo un piccolo abbassamento di voce un pochino di tosse e quindi tutto sommato la cura ha fatto effetto l'altra metà invece si è molto preoccupata altrettanto apprezzata da me per la mia salute dicendomi che probabilmente però la tachipirina non era il farmaco giusto per curare il covid io purtroppo faccio l'informatico e ho seguito semplicemente quello che mi ha detto il mio medico ma questo mi ha fatto pensare a quello che succede ogni qualvolta un utente dice che ha un problema con windows puntualmente arriva qualcun altro che gli dice passa a linux ma linux non sarà mica un po come la tachipirina e andrà utilizzato con un attimino di attenzione scopriamone insieme pregi e difetti e allora ti senti pronto iniziamo per fare un pochettino il figo ho pensato anziché da windows questa volta di restare in tema realizzare questo video utilizzando kali linux che come puoi vedere è una distro di linux che cosa sia una distro lo capiremo tra qualche secondo ma vorrei invece partire dai fondamentali per parlare di linux che è un sistema operativo e invece no non è nemmeno un sistema operativo ebbene linux è un kernel fatto per un sistema operativo che si chiama unix e volendo mutuare una metafora non mia dire che linux sia un sistema operativo è equivalente a dire che è il carburatore che fa camminare le nostre automobili e se non mi credi te lo faccio leggere direttamente su wikipedia eccolo qui parlare di sistemi linux può trarre in inganno sulla natura di linux linux non è un sistema operativo unix like bensì un kernel per sistemi unix like è stato fatto un parallelismo fra dire sistema operativo linux e dire auto guidata dal carburatore ma allora la domanda sorge spontanea che cos'è realmente linux impropriamente potremmo dire che linux è un adattamento di un sistema operativo diverso da windows che si chiama unix e che è basato su parametri completamente differenti ed è stato creato nel 1991 da uno studente di informatica che era insoddisfatto di come funzionava unix e ha voluto riadattarlo secondo le sue esigenze questo studente si chiama linux torvalds e all'epoca aveva più o meno questo aspetto qui naturalmente da allora è passato del tempo linux che è veramente un mostro sacro dell'informatica è cresciuto e adesso ha questa faccia qui in realtà anche se questa è la narrazione ufficiale che abbiamo una volta che linux torvalds ha sviluppato il primo nucleo del kernel di linux sono state molte persone a metterci le mani su una volta che è stato infatti rilasciato liberamente su internet perché questo progetto appartiene ad un'ottica open source ovvero di completa gratuità e disponibilità dei codici sorgenti diverse persone hanno iniziato partendo proprio da questo nucleo a creare le varie distro ovvero distribuzioni insomma dei linux personalizzati per diverse esigenze va bene ma ora che sappiamo che cosa è linux come è nato e che cos'è una distro cerchiamo di capire quali sono i vantaggi effettivi che offre linux ebbene il primo sicuramente è quello della gratuità infatti non hai bisogno di una licenza come nel caso di windows per utilizzare linux quindi se ad esempio hai molte macchine su cui vuoi installare un sistema operativo o semplicemente sulla tua e non ti va di spendere dei soldi linux può essere sicuramente una buona scelta una seconda buona ragione per utilizzare linux è sicuramente la sua stabilità se infatti hai bisogno ad esempio di mettere su un server o comunque hai bisogno di una macchina che non vuoi che venga spenta o riavviata per lunghi periodi sicuramente da questo punto di vista linux è superiore a windows il terzo arcinoto motivo per cui linux sarebbe superiore a windows è quello della sua sicurezza i motivi per questa maggior sicurezza sono sostanzialmente tre in primis la gestione dei permessi degli utenti in secondo luogo l'isolamento dei processi che rende molto più difficile il lavoro dei virus in terzo luogo il modo in cui in linux vengono scaricati i pacchetti software tramite una app di gestione diversa da distribuzione a distribuzione cosa che tuttavia anche windows ha recentemente implementato con il sistema winget di cui abbiamo parlato in alcuni video il quarto motivo per cui linux è superiore a windows è l'hardware o meglio le sue richieste in termini di risorse hardware i sistemi linux sono capaci di girare con maggior velocità sia su macchine più vecchie che su macchine seppur nuove molto meno performanti un ultimo aspetto da non sottovalutare di linux è la sua flessibilità differenza di windows che parte con un pacchetto sostanzialmente pre confezionato esistono in linux varie distribuzioni che possono andare incontro a diverse esigenze di funzionamento ma anche a diversi gusti estetici ma per par condicio vediamo anche quali sono i vantaggi che windows offre obiettivamente rispetto a linux il primo in assoluto è quello della compatibilità e della disponibilità dei vari software soprattutto in ambito professionale e lavorativo molti software vengono creati solo ed esclusivamente per windows e sebbene esistano dei loro omologhi per linux oppure esista sotto linux la possibilità di usare un sistema che si chiama wine per andare a farli girare sotto linux devo dire che la performance e la compatibilità non sono assolutamente paragonabili se invece il tuo interesse principale è il gaming non parliamone nemmeno perché linux non è assolutamente competitivo sotto questo punto di vista i pochi giochi compatibili hanno delle performance decisamente inferiori sotto linux rispetto a quelle che hanno su windows ebbene senta dire spesso che windows è più semplice rispetto a linux trovo che questo non sia esattamente vero sicuramente la curva di apprendimento su linux è molto più ardua ma semplicemente perché tutti quanti siamo partiti con una mentalità windows che adesso è entrata nel nostro dna tutto questo non toglie tuttavia che per quello che ho potuto vedere con i miei clienti tutti coloro i quali sono passati a linux ci hanno impiegato alcuni mesi per arrivare ad un livello di confidenza con il sistema paragonabile a quello che avevano con windows una menzione speciale la merita invece il discorso dei driver su un windows appena installato è abbastanza facile diciamo in un buon 95% dei casi trovarsi tutte quante le periferiche già configurate regolarmente e lo stesso varrebbe anche per linux ma solo nel caso in cui tu usi delle periferiche standard nel caso in cui invece tu abbia bisogno di utilizzare delle periferiche particolari o delle periferiche poco diffuse se non sei veramente esperto dal punto di vista tecnico su linux potrebbero essere dolori un ultimo problema non indifferente che può affliggere come già successo in passato diverse distribuzioni di linux è quello relativo al supporto il supporto in termini sia di supporto tecnico che di aggiornamenti infatti nel caso di queste distribuzioni viene affidato a dei gruppi di volontari che basano sulla loro voglia di fare e sul loro tempo libero appunto tutto quanto il lavoro necessario a mantenere la distribuzione stessa nel momento in cui questo interesse dovesse venire improvvisamente meno come purtroppo è successo diverse volte in passato la distribuzione verrebbe lasciata completamente a se stessa e mai come oggi al termine di questo video alcune precisazioni sono importanti innanzitutto il fatto che quelle che ho riportato sono innanzitutto dei miei pareri personali condivisibili o meno riguardanti questo sistema operativo e questo kernel ma in secondo luogo che quello che ho riportato non è basato su mie simpatie o antipatie nei confronti dell'uno o dell'altro sistema quanto su quello che ho potuto vedere con i miei occhi in quasi 30 anni di questo lavoro vedendo utenti che da windows passano a linux e da linux passano a windows quindi quelle che ho voluto riassumere brevemente sono le mie considerazioni a fine 2023 sullo stato attuale di questi sistemi e detto questo parliamo di qualcosa di molto ma molto più piacevole ovvero i ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno a thomas2915 in doppia copia perché ha inviato due supergrazie a supporto della nostra community ed un altro non meno importante ad enrico gelindo per il suo generosissimo supergrazie ma allo stesso modo vanno ringraziati anche oberdan carcano e guido berselli per essersi abbonati al canale e quindi è un mio onore e un mio privilegio dare anche a loro il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini e come ben sai l'ultimo ringraziamento è quello che tengo sempre a fare proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento come di consueto alla prossima grazie a tutti